La mia esperienza è stata molto bella Mi sono trovata di fronte a quattro classi, quindi un centinaio di ragazzi I quali hanno voluto sapere tanto della mia vita, a differenza di quello che diceva Daniela Hanno voluto sapere perché io stavo scrivendo quelle cose e cosa c'era dietro Io ho tentato di rispondere Mi hanno offerto delle interpretazioni molto suggestive, devo dire anche, di alcuni miei versi Il che mi ha fatto confermare la necessità di una libertà comunque nella interpretazione dei testi poetici Io ho portato due cavalli di battaglia, due testi che sono il notturno di Alcmane Dal quale è cominciata la mia avventura all'interno della poesia Perché contiene quello che io credo sia un riassunto di quello che io intendo per poesia E del quale ho parlato con i ragazzi E poi l'uscita mattutina di Caproni Che è una lezione di leggerezza su un dolore lancinante Quale è quello della perdita della madre Lascerei a loro di fare domande, osservazioni come abbiamo fatto insieme Prego Cara Mare Grazia Ci sembra che la vita di ognuno di noi abbia bisogno della poesia Della bellezza, della musica, del sentimento E della riflessione che essa, più di altre forme letterarie, sa portare nel mondo Per questo, tra le domande suscitate dal laboratorio condotto nella nostra scuola Le più ricorrenti riguardano la produzione della poesia Di chi, come noi, non si sente poeta Ad ognuno di noi è capitato almeno una volta di sentire il bisogno di affidare Pene o interrogativi a un foglio Ma spesso non osiamo avvicinarsi alla poesia Perché non sappiamo dove cercare le parole giuste Perché metterci a nudo ci imbarazza O perché ci sembra solo che grandi poeti Che solo le poesie dei grandi poeti meritano di essere scritte e lette Per questo le chiediamo Poeta si nasce o si diventa? Cosa possiamo fare per trovare la nostra ispirazione? Oltre a leggere le opere dei grandi poeti? Lei pensa che il mondo abbia bisogno anche delle poesie di noi Che forse mai grandi poeti saremo? Vorremmo infine sapere La poesia muore se la ricerca di essa viene trasformata in un lavoro Che abbia affinità economiche? La ringraziamo per questa importante esperienza formativa E speriamo di poterla essere qui anche l'anno prossimo Per parlare di poesia I ragazzi del secondo N Nicolò Machiavelli Posso rispondere? Posso rispondere? Così se no mi dimentico tutto È una questione proprio di età Sì, sì Allora, poeti si nasce o si diventa? Boh, forse si nasce Nel senso che io questo l'ho detto Tutti conteniamo quel sentimento Che poi però per quelli che usano le parole diventa poesia Quindi la poesia, abbiamo detto insieme È questa musica fatta con le parole Alcuni usano quel mezzo per esprimere un sentimento Che però sicuramente proviamo tutti Come diceva prima Daniela Chi legge nel momento in cui legge diventa poeta Per il motivo che tocca quel punto nel quale il poeta è arrivato Dove il poeta è sceso per poter comporre le proprie poesie Credo che lo stesso valga per tutte le arti in realtà Però io mi intendo di questa Anche se poi io ho fatto vedere Questo avevo dimenticato di dirlo prima Ultimamente sto facendo un'esperienza Mi sono rimessa a disegnare A manipolare le cose A fotografare E quindi ho tentato di usare anche gli altri mezzi Il disegno appunto e la fotografia Per dire la stessa cosa che dico in poesia E ho sottoposto queste piccole simpatiche cavi All'esperimento di guardare insieme dei video Ora se ne possiamo mandare uno Brevissimo Guardami Sono la via per l'oro delle galassie Sono pane Deposto ai tuoi piedi Dopo il primo raccolto del creato Ecco Sono io che ho chiesto a loro Se questa cosa è necessaria E se li aiuta a comprendere la poesia E loro Alcuni mi hanno risposto un po' Alcuni mi hanno risposto no Preferiamo essere liberi di immaginare E quindi continuiamo con le domande Ammesso che io abbia risposto a quelle che mi avete fatto Cara Maria Grazia Abbiamo trovato molto interessanti gli incontri svolti Per aver capito l'importanza della poesia E per aver capito con quale facilità ci si può liberare dalle emozioni scrivendo Abbiamo trovato interessante il modo in cui riesce a mettere su un foglio di carta La vita reale Prendendo spunto da tutto ciò che ci circonda Ha dimostrato che le poesie fanno vedere il mondo con gli occhi nuovi Come la vista di una prugna che ha ispirato una sua poesia Ci è piaciuto molto leggere le poesie tutti insieme E poi commentarle ognuno con il proprio punto di vista Inoltre volevamo fare le altre domande Oltre alle numerose che abbiamo posto negli incontri Come possa essere considerata la poesia? Un lavoro o una passione? Noi studiamo le correnti letterarie dando un nome a ciascuna I poeti odierni come lei, a quale corrente appartengono? È stato dato un nome ai poeti viventi come lei? Infine abbiamo sentito parlare di poeti del trullo Lei cosa ne pensa di questa nuova forma di poesia? E i ragazzi del secondo building con la Machiavelli Ma perché tutta me me le fate le domande complicate? Allora, cosa penso di questa nuova forma di poesia? Dopo di noi ci sarà il poetry slam, no? Io sono molto divertita da tutto questo Devo dire la verità Non ero, io ero una di quelle poetesse Si siedono al tavolino, scrivono e credono che quello sia Lo penso ancora Però sono molto aperta Appunto, l'ho dimostrato prima Sono molto aperta a tutte le contaminazioni In questo momento della mia vita A tutte le possibilità di esprimersi Anche attraverso le altre arti che non siano la poesia Sebbene il mio strumento, il gesto che mi appartiene Sia quello della poesia Se la poesia coincide con il lavoro Se qualcuno ha la passione di scrivere E riesce a fare di questo il proprio mestiere Non soltanto ovviamente la pubblicazione dei libri In Italia non si vive pubblicando i libri In altri paesi forse sì Però con le attività collaterali Insomma, diciamo che se uno vive solo Non ha famiglia da mantenere Sì, si può fare E questo non credo che contamini in alcun modo La scrittura Perché anzi Riuscire a piegarsi in qualche modo A sperimentarsi Ad avventurarsi in altre forme Quali possano essere il teatro La critica letteraria È secondo me un arricchimento Perché poi la perla della poesia Rimane ancora più contornata Ancora più quella La si riconosce ancora meglio di prima Cara Maria Grazia Leggere le sue composizioni E poi analizzarle con lei Negli incontri È stata una bellissima esperienza E devo dire che noi La mia classe Cioè il terzo E del Nicolo Machiavelli Ci siamo letteralmente immersi Nelle sue poesie Cercando di dare un'interpretazione Ad ogni verso E nel farlo È stato vivo il bisogno Di voler attraversare Le sue poesie Ponendole delle domande Che io e i miei compagni Le faremo In alcune delle poesie Come Fossile E Cuore di Drago Morso Dal Fogliame Ho notato la presenza Di riferimenti Ad una persona Che io ho pensato essere donna Data l'impostazione Al femminile Delle suddette frasi Per esempio In Cuore di Drago Morso Dal Fogliame Leggiamo Vai Quasi avvolta Dalla solitudine Di un'onda marina In un mattino azzurro E pieno di rondini Ti sei vestita Per l'appuntamento Io ti porto il frutto Oppure in Fossile Lei scrive Sei passata Attraverso l'oro verdile Dell'iride Quindi io mi chiedo Questi versi Sono dedicati A una donna In particolare O magari si riferiscono A lei stessa Sono versi Dedicati ad una donna Sì certo Tra l'altro ho dato Anche una spiegazione Davanti a 100 persone Magari davanti a 500 o meno Insomma Sì sono versi Dedicati ad una donna Una figura femminile È ovvio E mi stupisce la domanda Perché sono tutti Declinati al femminile Cara Maria Grazia Gli incontri con te Mi hanno aperto gli occhi Sulla potenza Che hanno le parole Infatti Nella tua poesia Fossile Mi ha colpito Molto una frase Sarebbe riduttivo Dire amore Questa necessità Della natura In riferimento Alle api Che volano sui fiori Le immagini Che traspaiono Dall'intero terzo Pianti Animali Richiamano un paesaggio Di campagna E infatti Come ci hai precedentemente Raccontato Tu possiedi una casa Ad olevano romano Volevo chiederti Quali sono le ragioni Per le quali Hai voluto scrivere Questo verso È stato suscitato Dalla sola osservazione Della natura Che ti circondava E se può essergli Attribuito un altro significato Quale sarebbe? Allora È una necessità Della natura Quando ci si riferisce A dei legami Così profondi Da essere indispensabili Questo volevo significare Cioè ci si sente Attratti nei confronti Di qualcuno Di qualcosa Come l'ape È necessitata È il suo destino È il suo compito Esistenziale Quello di Depositarsi sui fiori Allo stesso modo Si possono provare Dei sentimenti Che sono così Indispensabili Cara Maria Grazia Passare del tempo con te Ha lasciato il segno Ascoltare i tuoi versi Mi ha fatto provare Strana emozione Che non riesco Ad esprimere a parole Quasi come un senso Di libertà Nelle tue posie Infatti Si nota molto La libertà Che c'è Nella disposizione Dei versi Per esempio In Fossile Il verso libero Che dice Avvicinati Come la prima Secondo te Quali pensi che siano Se ci sono I limiti di chi scrive Poesia oggi E quali gli ostacoli Perdonami I limiti intendi I limiti metrici I limiti di forma O limiti nella società Limiti nella società Limiti nella società Beh Quello che abbiamo detto prima Che non ci si campa Di poesia E forse è un bene Come appunto Stavo dicendo poco fa Che non ci si campi Di poesia Perché questo costringe A tenerla In qualche modo Uso una parola Che spero non venga Fraintesa In una forma Umile Discreta Qualche cosa Di segreto Che però È appunto Diceva qualcuno Prima non ricordo chi No Una forma di nudità E di esposizione Che forse è bene Che sia Così contraddetta Che sia Un controcanto Rispetto a quello Che comunemente viviamo Sono Elena Latrofin Deliceo Machiavelli Caro poeta Gli incontri con te Ci hanno aperto il cuore Poiché le parole Della tua poesia Ci hanno donato immagini Visibile Nitide Ma ci siamo posti Anche molte domande Su ruolo e la funzione Della poesia Nel nostro mondo contemporaneo Le parole Non sono vuote Sono suoni Che evocano immagini Ed emozioni soggettive Siamo stati molto colpiti Dall'immagine del sintagma Trasparente emorragia di luce Anche noi abbiamo provato Ad immedesimarci nella poesia E vorremmo ringraziarla Per le sensazioni ricevute Grazie Purtroppo Siamo alla fine E avrei voglia di stare Tanto tempo insieme con voi Lo faremo privatamente Nella scuola Dove sicuramente tornerò Sull'emorragia di luce Abbiamo parlato insieme Ed era questa Espansione verso Le api necessitate sul fiore La luce che si spande E con queste immagini Vi saluto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti